Eccolo, lui è Tsunami, ormai mi sono anche affezionato perché poi lui si è affezionato a me. Quando è arrivato era abbastanza selvatico, tanto che ad una guardia mi ha dato un bel morso sul dito, ma ora è diventato già subito affettuoso. Si chiama Tsunami ed è un gattino salvato dall'alluvione a Rigutino. Il micio è stato infatti letteralmente ripescato dalle acque da due guardie zoofile dell'Oipa. Siamo stati contattati, visto il maltempo, perché c'erano animali dispersi, vaganti e impauriti. E quando ci siamo recati sul posto, questo gattino era in mezzo alla strada e le macchine lo scansavano. Nessuno si è fermato a soccorrerlo. A prendersi cura del micio poi ci ha pensato il dottor Alberto Brandi di Castiglion Fiorentino, che dopo averlo curato gli ha trovato una famiglia. Non ha grossissime cose, se non un po' di raffreddore e di congiuntivite, che è tipico dei gattini selvatici. Era anche pieno di parassiti, ora invece è ripulito. Oggi gli faremo un bel bagno prima di consegnarlo alla nuova famiglia, perché almeno va tutto bello nella nuova casa. Sei già ambientato col nuovo proprietario, vai! Grazie!